Anche da destra dalla bandierina Maicon, si sbraccia Mazzani, movimento di Manzini sul primo palo, parte Maicon, colpo di testa centrale da parte di Samuel. Si sta anche vice, non è saltato, si è fatto male un altro qui, ha staccato molto bene Samuel, però molto centrale, anche debole, non ha dato forza, quindi Castellazzi molto attento e sicuro. Mazzari con Gervasoni, il quarto uomo, qui rivediamo il contatto Adriano Castaldello. Mancano sei minuti alla chiusura del primo tempo, ma per tutte queste interruzioni ci sarà robusto recupero, almeno due minuti. Il pallone era stato buttato fuori perché venisse a soccorso, Castaldello ci ha rimesso l'aterale per l'interno, il pallone che però sarà istituito agli avversari. Ecco il pugno di Adriano a Castaldello. Grazie. Grazie.